Dieci nuovi percorsi inclusi nel catasto escursionistico regionale, più di 78 km di sviluppo complessivo, un grande itinerario ad anelli in due tappe, sei comuni e due province, due siti protetti di interesse comunitario, numero importanti che ben descrivono la nuova rete escursionistica della Mandria di Chivasso. La rete comprende i comuni di Chivasso, Mazzè e Rondissone, a cui si sono aggiunti Torrazza Piemonte, Verolengo e Saluggia. I comuni aderenti, riuniti dalla città metropolitana di Torino in una conferenza di pianificazione con il supporto tecnico del CAI Piemonte, hanno approvato uno schema di rete escursionistica di cui sarà a breve proposta l'inclusione nel patrimonio escursionistico della regione Piemonte. Qui in Mandria di Chivasso è stata una sfida, una sfida nuova, cioè andare a costituire una nuova rete di sentieri, quindi vedere come collegare l'anfiteatro morenico di Ivrea con la collina di Torino e andare a colmare quello che di fatto era un buco nella rete escursionistica della regione Piemonte. Al momento attuale siamo arrivati alla fase definitiva di approvazione con tutti i comuni della nuova rete escursionistica. si procederà quindi alla progettazione puntuale di ogni percorso, la progettazione dell'itinerario ad anello che va ad unire tutti questi percorsi in un anello naturalistico molto interessante. La presentazione della rete, a pochi giorni dall'ormai seguitissima Stramandriamo, è l'occasione per presentare agli appassionati di outdoor la nuova rete escursionistica, la cui prossima approvazione potrebbe essere il punto di partenza di un'auspicabile strategia coordinata di promozione e valorizzazione nel territorio e delle sue peculiarità. La rete sentieristica di cui si occupa la città metropolitana è un tipico lavoro dell'ente di area vasta che noi rappresentiamo. È stato fatto attraverso la nostra conferenza di pianificazione sulla rete sentieristica, quindi stiamo provvedendo ad accatastarlo. Adesso questo lavoro che è stato un lavoro di grande coordinamento, cioè ciò che la città metropolitana fa rispetto alle reti sentieristiche, è coordinarsi con i comuni, lavorare con le associazioni per arrivare ad avere contezza di tutti quelli che sono i percorsi sulla nostra rete sentieristica. Adesso la Regione dovrà approvare questo lavoro che è stato fatto. Resta la parte di infrastrutturazione, apposizione della segnaletica, risoluzione di alcuni problemi di attraversamento, però sempre con l'aiuto e l'assistenza di città metropolitana, che in questo senso ha un ruolo di cerniera, di raccordo, di coordinamento, sono convinta che, come è già successo per altri sentieri, anche questo nuovo percorso possa vedere il suo compimento presto. Il comune di Mazzè è un comune che dal punto di vista naturalistico, anche storico, ha tanto da dire. Noi siamo dentro due parchi, uno della città metropolitana, che è quello del Lago di Candia, uno è quello del Parco del Po, perché siamo anche attraversati dalla Dorabaltea, per cui abbiamo tutta una serie di cose da promuovere e da far vedere. Questa rete escursionistica è il punto di arrivo, il punto di partenza, dipende dai punti di vista, per cominciare a collegare tutta l'area della collina Chivassese con l'area, diciamo, canavesana, della collina di Caluso-Mazzè e andare verso le Porediese. Questa rete escursionistica andrà a incrociarsi con altre importanti rete escursionistiche che arrivano dall'Alto Canavese.